60 foto di Chris Neidental, fotoreporter anglo-polacco, affiancate da una ventina di immagini provenienti da archivi storici. È un viaggio nella Polonia dell'inizio degli anni 80, gli anni di Solidarność, il sindacato fondato nel settembre 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di Danzica e guidato dall'Ecvalenza, la mostra allestita in questi giorni nella sede scaligera della CISL. Una fortuna ed una fatalità per Daria Anfelli, attrice teatrale veronese, trovarsi nel 1984 a Poznam, nella parte occidentale della Polonia. Si trovava lì per un festival internazionale di teatro, doveva rimanere, ed il visto lo diceva chiaramente, per una settimana, ed invece vi rimase per dieci anni. Impossibile non partecipare alla lotta, al movimento di cambiamento, così come lei stessa ha raccontato ai nostri microfoni a margine della presentazione della mostra. Nell'estate dell'84 ho attraversato il confine della Germania Est fino in Polonia per partecipare a questo festival. Pensavo che sarebbe stata una visita lampo di una settimana, perché avevamo visti per una settimana, in realtà poi mi sono fermata dieci anni. Quello che si vedeva di là era qualcosa di stupefacente per chi veniva dall'Europa occidentale, anche solo così a un'occhiata superficiale. Si trattava di un paese, nella zona dove siamo entrati, quindi nel sud della Polonia, un paese al buio. Una notte non c'erano strade illuminate, i paesi erano al buio, non c'erano auto, quasi solo traffico pesante, un'assenza totale di immagini a cui eravamo abituati, come la pubblicità o i grattacieli. Quindi un paese come un viaggio nel tempo, come essere tornati in un'Europa forse di prima della guerra. E poi nei giorni successivi, l'impressione di un paese con un'enorme fatica, allo stesso tempo con una determinazione a uscirne, con una grandissima energia per farcela. Era quasi inevitabile prendere le parti di qualcuno in quegli anni, in quel periodo? Beh, diciamo che io ho sempre frequentato un ambiente artistico e quindi tutta la Polonia artistica, quasi compatta, apparteneva al dissenso, perché il regime aveva agito in maniera molto violenta, aveva sospeso tutte le organizzazioni artistiche, i sindacati degli attori, dei giornalisti, degli scrittori. Molti artisti avevano boicottato la televisione di Stato, la radio, i teatri, moltissimi attori lavoravano in clandestinità, negli appartamenti, nelle case, nelle chiese. Quindi c'era ovviamente un'incredibile informazione riguardo a quello che stava succedendo, che veniva mediata dall'ambiente artistico. Era inevitabile essere coinvolti, era molto forte questo racconto. Grazie a tutti.